E ben ritrovati sul mio canale, ancora una volta un saluto da Simone, si sono tornato da Milano ma questo è un nuovo episodio di Newstack della settimana quindi vi ricordo che questo video è in collaborazione con il canale YouTube di Andrea Black Geek Tutorial quindi qua sotto in descrizione o qua sopra nella scheda dedicata potete trovare il suo video Newstack della settimana Prima di iniziare, come consuetudine, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto moltissimi di voi infatti non sono iscritti al canale pur guardando i miei video quindi vi ricordo di premere il bottoncino qua sotto rosso con scritto iscriviti che è molto carino, molto bellino e se lo fate, non lo so, tanta fortuna e viva e viva e ye ye Ma per il resto iniziamo subito con il video Newstack di questa domenica Partiamo da Google, Google Pixel 2 Google Pixel 2 che abbiamo già trattato in uno scorso video Newstack ma ora abbiamo delle immagini vere del dispositivo Purtroppo, perché davvero è come l'avevamo immaginato ed è la cosa più brutta che io abbia mai visto da almeno tre anni negli smartphone Eccovelo qua, siete contenti? Avete rotto anche questa volta le vostre retine? Non avete dei problemi voi ma è proprio brutto il telefono, assolutamente Poi di sicuro ci può essere qualcuno al quale può piacere Però di sicuro non sono io, che davvero sembra di essere tornati a almeno tre o quattro anni fa soltanto come design E proprio Google che tempo fa aveva detto Caspite, è una cosa essenziale il jack da tre e mezzo non possiamo toglierlo come ha fatto Apple Dovino e indovinello ha tolto il jack per le cuffie dal Google Pixel 2 Ottimo! Ma restate sintonizzati per sapere ulteriori novità su questo Google Pixel 2 Per ora è tutto Come saprete io ero a Milano per la presentazione del Galaxy Note 8 Dopo averlo provato approfonditamente per fortuna, grazie a Samsung, in una stanza apposita quindi senza l'assembramento incredibile di gente che voleva provarlo e bla 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 quindi abbiamo avuto la possibilità io e Andrea di provarlo bene per un bel po' di tempo ci sono arrivate alcune notizie per quanto riguarda i possessori, gli ex possessori di Note 7 Oltretutto se non avete visto il mio video dedicato a Note 8 che abbiamo appunto girato io e Andrea nella sede Samsung di Milano lo potete trovare nella scheda che trovate qui sopra di me Ma dicevamo appunto degli ex possessori di Note 7 che avranno un grandissimo improvement visto che sono stati vittime dell'esplosione o comunque della possibile esplosione della batteria del Note 7 quindi Samsung ha detto no, dobbiamo offrire qualcosa a questi clienti che acquisteranno il Note 8 che li faccia rimanere sempre con noi 12 mesi di garanzia in più sul telefono neanche la Dex, neanche una cover 12 mesi di garanzia siamo partiti dal fatto che addirittura gli ex possessori di Note 7 l'avrebbero dovuto ricevere il regalo, il Note 8 poi Samsung ha passato la palla alla Dex avranno il Samsung Dex e poi l'estensione di garanzia ma parliamo anche di Android Android finalmente è stato presentato il nuovo Android 8.0 e Google mi ha dato ascolto o comunque mi ha fatto felice e l'ha chiamato davvero Android 8.0 Oreo le novità sono parecchie e partono sia dalla grafica con ulteriori fonti XML nuove emoji e alcune migliorie proprio sulla veste grafica abbiamo anche un sensibile miglioramento per quanto riguarda i consumi e anche l'interfaccia della fotocamera con la possibilità di fare uno zoom 2x in automatico con un tasto dedicato ma anche altre cose per quanto riguarda la sicurezza e le API che insomma non vi sto qua ad elencare le novità si vedranno quando verrà presentato il Google Pixel 2 per ora abbiamo sì una versione praticamente definitiva ma è meglio vedere sui nuovi terminali che cosa ci sarà di nuovo finalmente partono le spedizioni dell'Essential Phone Essential Phone che si preannuncia essere davvero un flagship killer per tutti quanti gli smartphone che sono usciti appunto come top di gamma quest'anno sia per la sua scheda tecnica praticamente senza rivali o comunque davvero perfetta l'unica cosa che gli manca sono 2 giga in più di RAM per arrivare ai 6 giga di RAM del Note 8 però per quanto riguarda tutto il resto siamo davvero alla pari ha un design molto particolare e una capacità modulare attraverso dei connettori sul retro che lo rendono davvero tra virgolette plasmabile per tutti quanti gli utilizzatori che andranno ad acquistare questo Essential Phone negli Stati Uniti gli acquirenti hanno già iniziato a ricevere il device e con un prezzo di 699 dollari che comunque è leggermente di meno anzi sono 200 euro praticamente in meno rispetto ai top di gamma Android al pari ovviamente dello storage che tratta di 128 gigabyte offre tutto quello che uno smartphone deve offrire appunto Essential Phone proprio per questo l'unica cosa che mi fa un po' storcere il naso è che ancora non ci siano troppi moduli da mettere appunto su questo Essential Phone ma c'è da dire che è appena uscito quindi bisogna dargli un po' di tempo speriamo più che altro che venga commercializzato anche qua in Italia e soprattutto con una politica di pubblicità e di pubblicizzazione veramente aggressiva perché tranne noi che siamo appunto i più attenti a tutte le cose che succedono nel mondo della telefonia tutti gli altri ovviamente non lo conoscono e non sanno praticamente che cosa si stanno perdendo soprattutto perché ha la certezza di essere sempre aggiornato da parte di Android sta la partnership appunto tra Essential e Android piccola parentesi e qua chiudo il discorso su Essential Phone se lo chiami Essential quindi deve avere tutto quello di essenziale che uno smartphone può offrire perché non hai messo il jack da 3,5? ma dettagli a parte potrebbe essere lo smartphone definitivo? tutte le carte in regola ci sono ma per mia fortuna arriva anche un nuovo smartphone sul mercato che se non compro è perché davvero non viene commercializzato o ci sono dei problemi perché questo smartphone oltre ad essere uno dei miei preferiti in assoluto è anche uno dei più economici in assoluto lo sapete a me è piaciuto tantissimo lo Yotaphone 2 e finalmente esce lo Yotaphone 3 peccato che non sia un top di gamma infatti parliamo di uno Snapdragon 625 Octa-Core non quindi un 835 con una fotocamera posteriore da 13 megapixel una anteriore da 12 una batteria da 3300 mAh 4 giga di RAM e uno schermo da 5,5 pollici Full HD sul davanti da 5,2 pollici sul retro appunto perché vi ricordo che Yotaphone è l'azienda che fa appunto gli smartphone con doppio display uno in che uno normale e sarà disponibile dal 5 settembre ad un prezzo che varia dai 305 euro per la versione da 64 giga ai 395 quindi 90 euro in più per la versione da 128 e che dire per uno smartphone del genere se verrà ben ottimizzato quanto è stato ottimizzato lo Yotaphone 2 beh siamo davanti a uno smartphone davvero best buy quindi staremo a vedere al 100% vi porterò la recensione anche a costo di comprarlo e poi rivenderlo perché lo sapete a me piace tantissimo Yotaphone quindi aspettatevi un video il prima possibile quindi grazie mille per essere arrivati fino alla fine di questo video io spero che vi sia piaciuto se fosse così lasciate un mi piace, commentate e condividete vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto e noi ci rivediamo domani sempre qui sul mio canale con un nuovo video e ancora una volta un saluto da Simone ciao